Luca Zaia si racconta a Rete Veneta, quattro mesi in trincea tra lotte e speranze. 14 settembre riaprono le scuole, l'assessore Vicentino Toglio, governo in ritardo, bisogna correre. Altavilla Vicentina si aggira con uno scatolone, dentro tre chili di marijuana, cinese arrestato dai carabinieri. Scivola viene preso dal panico sulla ferrata delle Anguane, escursionista salvato dal soccorso alpino. Web Summit con la Cina, patto di amicizia fra il comune di Vicenza e Guiang. Buonasera e benvenuti al TG Vicenza, apriamo il nostro telegiornale come sempre con i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della regione Veneto, che ci dicono che in questo momento ci sono 471 casi positivi. I casi positivi sono sei in più dell'ultima rilevazione, che è quella di questa mattina, e portano il numero complessivo delle persone positive al coronavirus dall'inizio dell'emergenza a 19.270. Scendiamo nella seconda parte della tabella che ci fa vedere la situazione degli ospedali del Veneto. Vediamo che in questo momento ci sono 185 persone ricoverate in Veneto e 11 terapie intensive impegnate da persone, di cui una sola affetta da coronavirus e le altre 10 si sono negativizzate. Sono 1427 le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza coronavirus. E oggi non si è svolta la conferenza stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia dalla sede della Protezione Civile, ma noi abbiamo avuto l'occasione di mandare in onda un'intervista in esclusiva per Rete Veneta e Antena 3 con il Presidente Zaia. Mezz'ora nella quale Zaia ha raccontato le vicissitudini di questi quattro mesi e ci ha rivelato anche qualche segreto. Una lunga intervista, ripercorrendo quel che è successo dal 21 febbraio fino ai giorni della fase 3 e delle riaperture nel Veneto, che non si è mai fermato davvero di fronte al coronavirus. Luca Zaia parla dell'uomo e del governatore ai microfoni di Rete Veneta e Antena 3 in un'intervista di quasi mezz'ora che racchiude quattro mesi di lotte, speranze e difficoltà. Penso che quando il gioco si fa duro bisogna scendere in campo. Scendere in campo significa affrontare il problema, essere qui a governarlo e soprattutto fare sintesi, perché poi ci vuole sempre qualcuno che prende le decisioni e ovviamente si porti a casa la responsabilità. Il Presidente ha parole di gratitudine per Rete Veneta e Antena 3 e per il lavoro svolto dei giornalisti del gruppo Media Nord-Est nell'informare i Veneti durante le fasi dell'emergenza coronavirus. In questo modo ringrazio voi, Antena 3 e Rete Veneta, perché comunque assieme alle altre televisioni, assieme agli altri giornalisti, avete dato modo di dare informazione. È ancora presto per fare un bilancio di quanto è avvenuto negli ultimi mesi in Veneto, ma l'emergenza è ancora in corso. Che questa partita del coronavirus è andata bene, fra virgolette, beh sì, ma poteva anche andare male, ma io ci ho messo la faccia del primo giorno, perché comunque è fondamentale che il capo ci metta la faccia. Mettendoci la faccia, Zaia si è presentato ogni giorno alla stampa fin dalle prime fasi di questa emergenza. Non trovavo corretto dargli in carico, che so, al mio direttore della sanità, piuttosto che a qualche altro dirigente, di parlare ai Veneti. I Veneti devono sentire parlare chi può prendere le decisioni. E i Veneti hanno apprezzato, no? Non c'è nulla di pianificato, non c'è nulla di ragionato a tavolino. Io ho preso la cartellina il primo giorno e ho detto, siccome voi eravate qui, vi ricordate che vivevate qui, ho detto scendo e parlo con i giornalisti. Da lì il secondo giorno, terzo, alla fine poi vi ho portato all'interno, perché ho detto ma c'è brutto tempo, c'è freddo. E abbiamo iniziato. Però pensare che oggi la conferenza stampa sia diventato un appuntamento, mi fa piacere anche perché nella conferenza stampa non è che parliamo di cretinate, si parla di problemi di coronavirus, cerco di mantenere l'ambito sanitario. C'è una data finalmente per l'inizio delle elezioni, il 14 settembre si torna a scuola, l'assessore cittadino all'istruzione Tolio è contenta ma dice è stato perso, troppo tempo, ora bisogna correre. Ho sempre denunciato la mancanza di visione e di programmazione, quindi siamo ampiamente in ritardo. Punta il dito l'assessore all'istruzione di Vicenza, siamo in ritardo. La campanella della scuola suonerà il 14 settembre, il governo ha fissato il giorno e le regole del gioco, screening e testa campione per professori, studenti, operatori della scuola e distanza di un metro tra le teste dei ragazzi. E già, le linee ci sono ma arrivano in ritardo. Intanto è poco fattibile organizzare a piccoli gruppi se non ci si mette in testa di darci più personale, di reclutare nuove eleve, di dare una mano perché è ovvio, è una cosa semplicissima, se un insegnante ne tiene alcuni, un'altra ne deve tenere gli altri. Insomma il governo deve investire sul personale ma i meccanismi per reclutare insegnanti sono complessi e il tempo inizia a mancare. Poi c'è l'altro problema, distanziare gli studenti significa aumentare le classi e lo spazio negli istituti non c'è sempre. Siamo in ritardissimo per poter fare degli interventi sostanziosi. Ci sono delle scuole che hanno delle parti sottutilizzate ma che avrebbero bisogno di manutenzione. Io è da tempo che denuncio la necessità di avere liquidità, di avere la possibilità di intervenire con urgenza. Ci siamo accreditati come comune per partecipare ai bandi di edilizia scolastica, però luglio-agosto e settembre alle porte. Parola di Cristina Tolio, il primo assessore in Italia ad aver reso operativa la riapertura delle scuole materne dopo il lockdown, seguendo le linee guida venete presentate da Zaia. Cristina Tolio che a questo punto ha un consiglio da dare al Premier. Conte. Un consiglio che si sbrighi, che bisogna usare, che bisogna avere coraggio, bisogna fare dei protocolli chiarissimi con l'utenza e poi auspicare, cosa che auspichiamo tutti, che anche il virus perda sempre di più potenza. E anche in fase 3, anche in fase di emergenza coronavirus, resta sempre attiva la nostra linea aperta. Se notate qualcosa che non vi va, che secondo voi è un problema davanti a casa vostra, segnalatecelo alla mail vicenza.it o via sms al numero 351-1751866. Noi li porteremo ai sindaci e approfondiremo tutte queste situazioni. Ora andiamo ad Altavilla Vicentina per un arresto un po' particolare. Altavilla Vicentina, è cinese, a 29 anni, viene da Hong Kong. Si aggira a piedi in piazzale Roma con uno scatolone. Notato dei carabinieri è stato sottoposto a controllo e trovato con tre sacchetti contenenti più di tre chili di marijuana, due cellulari e 190 euro in contanti, oltre a un passaporto presumibilmente contraffatto. Per questo i carabinieri hanno arrestato l'uomo e sequestrato lo scatolone col suo contenuto. Le indagini ora mirano a scoprire la provenienza della droga e dove e a chi era destinata. C'è stato un principio di incendio in un fast food in città. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha impedito il propagarsi di un incendio all'interno di un esercizio commerciale per l'asporto di hamburger in Viale Santa Margherita. È successo nella serata di ieri. I pompieri arrivati sul posto hanno notato del fumo uscire dalle prese elettriche dietro un bancone. Intervenendo solo con gli estintori hanno circoscritto e domato il principio di incendio. Un'anomalia elettrica è la probabile causa del fumo prodotto. Nessuna persona è rimasta ferita. A Marano un'auto è finita contro un palo. Un incidente che secondo alcuni era prevedibile. Marano Vicentino. Un incidente automobilistico accaduto proprio davanti al municipio. Un'auto è finita contro un palo che sporgeva abbattendolo. Nessun ferito ma il sinistro era annunciato secondo il comitato Marano Pulita. Sarebbe stato solo una questione di tempo dopo la recente asfaltatura che avrebbe lasciato scoperti due sostegni metallici non opportunamente segnalati. Solo dopo l'incidente gli operai del comune avrebbero messo in sicurezza l'area riducendo la carreggiata per le auto provenienti da via 4 novembre. E a Vicenza i cittadini sventano il furto di una bicicletta. Un allarme provvidenziale quello lanciato da alcuni cittadini di passaggio in via Roma a Vicenza vedendo un migrante africano che con un sasso in mano tenta di spaccare il lucchetto che blocca una bicicletta chiamano il 112. I carabinieri accorsi sul posto denunciano per tentato furto aggravato il migrante. Si tratta di un 32enne del Gambia regolare in Italia eppure senza fissa dimora. L'uomo è stato poi rimesso in libertà. E ora andiamo a vedere tutte le altre notizie dalla provincia. Baldastico. Sono le nove di questa mattina quando gli uomini del soccorso alpino di Arsiero salgono in aiuto di un escursionista di 54 anni che, scivolato sulla ferrata delle Anguane a San Pietro, viene colto da panico. Calato alla base della parete e imbarellato se l'è cavata con alcuni graffi e qualche contusione. Tiene. Sono molte le associazioni sportive cittadine in crisi dopo il lockdown. Avrebbero registrato un calo degli iscritti superiori al 50%. Una società su quattro molto probabilmente non ripartirà. È un ritratto della situazione drammatico, quello descritto da un'indagine del Comune, a pesare l'incertezza sulle norme che ancora non consentono una ripartenza vera e propria. Malo. Post-Covid. La colletta benefica a favore di chi è in difficoltà in seguito alla pandemia è un successo grazie alla generosità dei cittadini. Patrocinata dal Comune e sostenuta dal gruppo Alpini, si conclude con la raccolta di una tonnellata di beni tra alimenti e prodotti per l'igiene e per i bambini. Caltrano, un nuovo piazzale per lo stoccaggio del legname, verrà ricavato lungo l'anello delle malghe nei pressi dell'alpeggio di Cariola. In questo modo sarebbe impiegato il primo stanziamento di 100.000 euro per la tempesta Vaia, un modo per consentire il lavoro boschivo senza gravare il parcheggio turistico. Due ville, massima sicurezza sulle strade per pedoni e ciclisti con lavori durante l'estate per un milione e mezzo di euro. Tra gli interventi più rilevanti, la nuova pista ciclabile di Viale Olimpia. Verranno ammodernati anche 15 passaggi pedonali illuminati con tabelle a led e saranno eliminate le barriere architettoniche nei tratti più frequentati. Valdastico, nuovo limite di velocità per rallentare il flusso turistico e il traffico pesante verso il Trentino Alto Adige. L'amministrazione comunale nel tratto di sua competenza della provinciale 350 ha fissato a 50 km orari la velocità massima. Sarebbe stata così messa in sicurezza la circolazione cittadina, visto il volume di traffico e le carreggiate particolarmente strette. San Pio X riapre la piscina del quartiere, una promessa dell'amministrazione comunale mantenuta a tempo di record. Riapre finalmente la piscina di San Pio, una promessa che avevamo fatto alla città ma soprattutto al quartiere di San Pio, un servizio che diamo ai cittadini. Sono veramente soddisfatto perché è una risposta concreta e tangibile, soprattutto dopo l'emergenza Covid, dopo mesi molto difficili. Vedere i bambini che si divertono in piscina sicuramente è un bel messaggio di ripartenza. Riaprire le attività dopo l'emergenza sanitaria è una gara, una sfida per chiunque in questo momento, anche nei quartieri periferici di Vicenza, dove soprattutto per bimbi e ragazzi le proposte e le strutture sono ancora limitate. Riaprire una piscina senza aver potuto espedire una nuova gara a causa del lockdown è stata un'impresa da veri atletidi con i gestori. La piscina vuole essere una proposta di aggregazione ai tanti cittadini che per l'estate saranno costretti a restare in città. Non solo durante il giorno ma sarà aperta due giorni la settimana anche di sera, questo chiaramente per facilitare l'utilizzo da parte dei ragazzi e anche per evitare quelle entrate notturne che spesso capitano appunto nelle piscine estive. E si è svolto in videoconferenza un incontro fra l'amministrazione comunale di Vicenza e quella di Guiang in Cina. Se Covid-19 non permette ancora viaggi e incontri tra delegazioni, ad accorciare le distanze ci pensa il web ed è così che le amministrazioni di Vicenza e della città cinese di Guiang si sono ritrovate in videoconferenza. Vicenza sarebbe dovuta volare in Cina a maggio in occasione della Fiera Mondiale Hightech, visita annullata a causa Covid. Sono lieto di incontrare questa importante rappresentanza a seguito anche dell'ultima visita che c'è stata qui a Vicenza l'anno scorso. Un rapporto quello tra le due città ha cresciuto nel periodo della quarantena con la cittadina cinese che si è distinta per un'importante donazione di materiale sanitario. in quel periodo particolarmente difficile da reperire, mascherine, guanti e camici fatti arrivare a Palazzo Trissino. Oggi l'incontro in videoconferenza con l'amministrazione di Guiang e il suo primo cittadino Chen Yang è un altro importante passo verso il patto di amicizia tra le due città. È arrivato però il momento di guardare avanti e riprendere il percorso che avevamo intrapreso con la firma del protocollo del patto di amicizia che fu fatta qui a Vicenza. Un'occasione per insaldare gli ottimi rapporti ed anche sviluppare business delle imprese beriche in una fase oggi di post-Covid. Dare seguito alla creazione dei gruppi di lavoro dedicati ad alcune macro-aree di intervento a livello industriale e commerciale. Patto di amicizia ha auspicato il consigliere Leonardo De Marzo per un futuro gemellaggio tra le due città in vista di un prossimo viaggio, confidando che possa finire già a settembre durante la locale fiera del Food and Beverage. Questa sera andrà in onda il film di Walter Lang, la segretaria quasi privata con Spencer Tracy e Catherine Hepburn. Domani saremo in diretta dalle 11 con la Messa dalla Basilica del Santo a Padova, seguita dalla nostra consueta edizione straordinaria in diretta fino alle 13, poi alle 18. Torniamo al Santo per la Santa Messa. Per oggi da Vicenza è tutto, vi auguriamo una buona serata e vi lasciamo al Meteo. Bentrovati al Meteo. Sul nostro territorio sarà una domenica soleggiata e anche piuttosto calda. Il dettaglio dunque è del 28 giugno. Sul Veneto avremo una bellissima giornata di sole, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Nelle ore centrali sarà possibile qualche annuvolamento sui settori alpini e prealpini associato a locali temporali di calore. Le temperature saliranno ancora fino a portarsi abbondantemente sopra le medie stagionali, minime tra i 18 e i 21 gradi, massime invece tra i 28 e i 34 gradi all'incirca. Vediamo ora nel dettaglio la situazione a Vicenza in città ma anche in provincia. il sole sarà protagonista della giornata. Vedete il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi al massimo con qualche velatura. Non sono previste precipitazioni. Temperature infine in aumento. Dal Meteo di Rete Veneta per ora è tutto. Arrivederci.